Io vorrei partire dalla questione finale posta da Paolo, dall'interrogativo, dalla domanda che cosa significa oggi espropriare gli espropriatori laddove l'accumulazione originaria si presenta come un processo che non passa più per gli elementi della divisione e della distribuzione ma come un processo immediatamente produttivo laddove l'appropriazione avviene sul comune e questa appropriazione non consolida forme proprietarie ma piuttosto si definisce come utilizzazione, come uso e dunque come regolazione dell'accesso. L'elemento di comando si esprime attraverso la regolazione dell'accesso. Io credo che se assumiamo le cose che ci diceva Paolo utilizzando Schmidt e dunque il riferimento poi alle cose marziane sull'accumulazione originaria rilette a partire dal discorso che abbiamo iniziato a fare proprio nei seminari della LUM quando ci siamo occupati di accumulazione originaria nella scena contemporanea, un'accumulazione che non si presenta più come atto conchiuso ma come processo sempre dispiegato e quindi riferimenti alla dimensione dell'accumulazione originaria nei paesi emergenti, i riferimenti alla questione proprietaria e alla violenza proprietaria quando in gioco ci sono le idee, i linguaggi, i codici, gli stessi affetti, le emozioni, per essere chiari la questione della proprietà intellettuale, il tema dei brevetti, l'organizzazione del sapere scientifico come appropriazione e definizione dei perimetri nell'uso e nella gestione delle sementi, del modo di lavorare la terra, nel modo di organizzare la produzione agricola. Insomma questo ampio campo fenomenologico che abbiamo analizzato in questi anni ci ha servito per dire oggi siamo immersi in una scena capitalistica in cui l'accumulazione originaria non si presenta come atto chiuso ma come processo sempre dispiegato e mi pare che tu oggi si riproponevi questo tema appunto utilizzando Schmidt dicendoci l'articolazione di ciò che Schmidt definisce nomos nella scena contemporanea salta o meglio non c'è più quel tipo di articolazione perché non ci sono più momenti di divisione, di distribuzione qualificati dalla centralità delle categorie del diritto positivo, dell'ordinamento positivo e così via. Io penso che se prendiamo per buono questo elemento di stimolo, questa ipotesi di lettura del contemporaneo dobbiamo fino in fondo assumere che la questione dell'antagonismo o dell'espropriazione degli espropriatori non può che presentarsi come dinamica produttiva, cioè noi non possiamo più immaginare un conflitto un conflitto anticapitalista, un conflitto seriamente anticapitalista che non si ponga il problema della produzione di nuove forme di vita, della produzione di nuove regole, nella produzione, nella costruzione di nuove forme di nuove forme di comunità. Ecco, io lo dico perché per quanto questa cosa a volte sembri scontata nella nostra prassi credo che invece sia abbastanza fondamentale ribadirlo. È possibile cioè oggi una battaglia, un conflitto, una lotta che sia puramente concentrata sugli elementi distributivi? Quindi quando ci riferiamo alla questione della ricchezza, del reddito, del reddito come riappropriazione dunque come espropriazione degli espropriatori, laddove gli espropriatori si presentano nella veste del capitale finanziario, dei processi brillantemente analizzati da Cristian piuttosto che da Lazzarato, ecco laddove il capitale si presenta in questa forma pensiamo al reddito come quella forma di espropriazione degli espropriatori, ma questo reddito non è già di per sé un elemento che si introduce sul terreno di una produzione di vita alternativa a quella che viene messa. Insomma, per essere chiaro, il tema del comune secondo me si presenta oggi non solo come bacino di relazioni, facoltà che in qualche modo vanno difese dai processi appropriativi, ma si presenta anche come continuo orizzonte di riferimento di una prassi conflittuale, laddove salta appunto la centralità degli elementi distributivi o della divisione. Questa è la prima questione che volevo porre rispondendo un po' al problema finale posto da Paolo. La seconda questione è invece quella relativa all'ethos. Mi pare che il secondo punto della tua relazione, il punto che si è più soffermato su Stirner e sulla critica di Marx a Stirner, tu hai molto insistito sulla tematica dell'angoscia, in qualche modo questa compressione dell'insieme delle relazioni sociali e della cooperazione dentro il singolo, dentro l'unico, è effettivamente ciò che Simon Donne, mi pare che tu riprendessi un po' quell'analisi, chiama angoscia. Ecco, io su questo tema mi piacerebbe un pochino approfondire perché credo che l'ethos di questo individuo proprietario non sia semplicemente un ethos fatto di angoscia, ma sia un ethos che laddove cancella il comune o lo rapprende dentro la dimensione individuale da pieno rilievo a alcune delle passioni che abbiamo analizzato in questi anni, nella discussione, invidia, cinismo, competizione come elemento ossessivo del modo di essere imprenditori di se stessi o di stare dentro il mercato del lavoro. E credo che dunque questa questione che sollevavi, che a mio avviso dialoga molto bene con le pagine fucultiane dedicate al neoliberalismo americano, nascita della biopolitica per intenderci, ecco, questa questione che sollevavi porta con sé in verità un catalogo di passioni assai più ampie che non è definibile solo attraverso la questione dell'angoscia, però semmai mi presento in aggiunta al problema che tu hai sollevato e però magari tornando sulla questione di oggi, cioè il rapporto tra nuove forme proprietarie e ethos. Penso che l'ethos di questo individuo proprietario, di questo imprenditore di se stesso sia un ethos fino in fondo segnato da questo catalogo di passioni che è assai ampio, così come questa insistenza sull'elemento del piacere, il carattere ossessivo o compulsivo del rapporto con il piacere laddove appunto il comune è sempre rappreso dentro i perimetri dell'individuo atomico. Mi limito a queste poche osservazioni e basta. Naturalmente facciamo un giro di interventi. Vabbè c'è questo scritto appunto germinale di Schmitt che è il cattolicesimo romano e la forma politica dove dice sostanzialmente poi due cose. Uno che il vero nemico è la comune di Parigi, cioè il mandato imperativo e gli operai che pretendono di rappresentarsi direttamente. E poi fa un'altra osservazione che invece riprende chiaramente Marx, quando dice che dove non c'è più religione, dove la religione non domina più lo Stato, la proprietà privata diventa sacra. Che è proprio Marx alla lettera, è una questione ebraica. E in qualche modo possiamo pensare che questo colpisca proprio questa figura dell'individuo proprietario di cui parlavi, che diventa centrale, focale proprio nel momento in cui si sviluppano molte caratteristiche del moderno. E ovviamente tu quando dicevi Stirner tutti noi leggiamo Nietzsche. Quindi in qualche modo è tutto quello che è venuto fuori da Nietzsche, il tipo di soggettivazione eccetera, che ha in qualche modo rimesso in discussione, dicendo guardate che questo c'è del buono e non c'è del buono perché c'è la scissione della soggettivazione dal comune. Ecco questo è un elemento, io proprio prima te lo dicevo scherzando, che questi doppi due aspetti della soggettivazione del comune e dell'appropriazione attraverso l'uso da parte del capitale finanziario sul comune, se vuoi chiama la biopolitica per raggiungere un'altra cattiveria a quella che tu hai aggiunto alla fine sulle moltitudine, sull'opposizione pubblico privato, pubblico comune eccetera. E diciamo questa è una cosa molto convincente perché ci fa vedere come all'interno di quello che io continuerei ancora a chiamare moltitudine esistono delle contraddizioni che spiegano anche poi la paralisi politica che hanno introdotto dentro, in qualche modo dentro la moltitudine, questi due aspetti, questa malattia della soggettività che in qualche modo è indotta dalla scissione con il comune e poi molto d'accordo appunto su questa ambiguità della battaglia contro l'universalità. In fin di conto il Marx che polemizza con lo statalismo di Lassalle è il Marx che sa benissimo quanto avesse ragione Stirner contro lo Stato e però vede anche che perde questo carattere relazionale. In qualche modo tutto quello che è venuto dopo Nietzsche ha riproposto a un livello più plausibile di Stirner una serie di cose. Ecco non dimentichiamo tu dicevi giustamente che Schmidt si faceva visitare dall'ombra di Stirner nella reclusione post bellica, in questo saggio iniziale il suo avversario ma anche il suo intimo amante è Bakunin, cioè è tutt'uno. L'attrazione dell'apistolo in dichilismo è sempre presente e viene identificata appunto con la dissoluzione soggettiva. Io in realtà voglio fare una domanda molto, anche un'esortazione insomma a tutti quanti, non solo a Paolo e al contenuto della sua bella relazione e che sarebbe quella di cominciare a ragionare insieme su una nozione che mi è sembrata costante nella relazione che è quella di potenza o potenziale sia nel suo significato di possibilità che nel suo significato di risorsa, fondo, base germinale da cui può nascere qualcosa. L'abbiamo ritrovata nella coppia comune singolare, potenzialità e realizzazione del comune e però la ritroviamo anche oggi nella nozione di, più che nella nozione, nella realtà della proprietà. Cioè quello che Paolo ha chiamato l'uso senza confini della nuova superaccumulazione originaria, perché è sempre originaria però è super nel senso che si fa su un livello che riesce a garantire la propria riproduzione oltre che una espropriazione. Espropriazione ma anche moltiplicazione, potenziamento interiore. Quello mi ha fatto pensare a come funzionano per esempio i mercati finanziari che funzionano esattamente su un materiale del tutto potenziale o virtuale, cioè su una proprietà non effettivamente posseduta, su qualità non effettivamente mostrate, non realmente mostrate, perché lì non conta tanto quello. Come comincia adesso a non contare più il fatto che tu abbia tot dipendenti con tot contratti a tempo indeterminato, perché chiaramente per quotarmi in borsa è meglio che io abbia gli stessi dipendenti ma con dei contratti di cui io vedo la fine in maniera tale che sul mercato mi presento come quello che non deve dare così tanti soldi a tempo indeterminato, ma ne deve dare gli stessi ma a tempo un pochino oppure anche di meno. Però la nozione di potenziale io la tiro fuori anche perché vorrei metterla alla prova di quella premessa metodologica che faceva all'inizio, secondo me giustissima, ma che vede proprio nella nozione di potenziale una specie di cattivo esempio, cioè ciò che ha nel suo opposto il suo complementare. Sempre, insomma la tradizione filosofica soprattutto ha visto potenziale e reale possibilità e attualità come due cose che si escludevano ma anche che erano complementari perché è inutile pensare a una pura potenzialità senza pensare a una possibile realizzazione e viceversa. Quindi mi sembra un cattivo esempio in quel senso, cioè che riprende questo binomio tra esclusione, cioè l'idea che aveva detto Paolo che un concetto ricavi la sua concretezza storica da un'opposizione e anche da una complementarietà. In questo caso il concetto concreto di potenza, così come la storia ce lo consegna, fa tutte e due insieme. E anche perché mi sembra, finisco, che il concetto di potenza sia un po' stato maltrattato ultimamente da chi lo tratta solo in termini negativi oppure chi lo lega a un discorso più ampio che comprende anche la questione dell'amore che per me, insomma, questa è una mia opinione personale, lasciamo stare, la questione dell'amore legata alla potenza spesso finisce per diventare più soltanto un inno piuttosto che un ragionamento concreto e mi pare che l'amore non abbia, l'ultima cosa che ha bisogno di inni. Per il resto mi sembra che sia stata molto maltrattata la nozione di potenza. La mia è proprio una questione perché per motivi di forza maggiore non ho seguito la parte iniziale della relazione. Però ritornando sui tre momenti individuati da Schmidt, appropriazione, distribuzione e produzione. Il mio problema è questo qui, soprattutto nei confronti della ripresa della tematica dell'accumulazione originaria, che è una ripresa che, come si sa, negli ultimi 15 anni è stata molto forte nel dibattito teorico marxista. Sull'assenza del momento della distribuzione, se non ho capito male, bisognerebbe un pochino problematizzare questa affermazione. Nel senso che io per esempio sono molto in disaccordo con chi, ed è la maggior parte di questi teorici che riprendono il tema dell'accumulazione originaria, ritengono che l'accumulazione originaria sia essenzialmente il momento delle enclosures, cioè sia essenzialmente il momento della recinzione e quindi dell'appropriazione del comune naturale, della terra. In realtà in Marx la questione è molto più complessa perché l'elemento fondamentale che definisce l'accumulazione originaria in Marx, di cui le enclosure non sono altro che la precondizione, è la formazione di uno specifico rapporto sociale. È questo che costituisce l'accumulazione originaria in Marx. E questa costituzione di questo particolare rapporto sociale, che è il rapporto propriamente e specificatamente capitalistico, si dà non solo con il momento dell'appropriazione, ma si dà rispetto all'altra polarità con l'elemento della spogliazione, dello spossessamento. Ed è quello che forma questa nuova natura della povertà, che è la povertà capitalistica, che non è la povertà, come dice Marx, sorta naturalmente, ma è quella che si dà come l'isolamento della forza lavoro, cioè di questa potenza di agire e di creare, dalle condizioni della sua riproduzione, biologica, fisica, ma non solo possiamo dire oggi, mutatis mutandis, e delle condizioni della sua realizzazione. È questo isolamento della forza lavoro, dalle condizioni della sua riproduzione, dalle condizioni della sua realizzazione, che pone la possibilità perché si dia il rapporto specificatamente capitalistico. Ora il problema, riprendendo un pochino il confronto storico, bisognerebbe capire a questo punto come il momento appropriativo e il momento della separazione si ridanno nel momento in cui la forza lavoro difficilmente può essere isolata dai propri mezzi di produzione, che sono appunto l'intelletto, ma non può non essere però, attenzione, isolata dai suoi momenti di riproduzione. Altrimenti neghiamo l'esistenza della povertà nel post-fordismo. E soprattutto il vero problema che io vedo è che le strategie di nuova, non solo di appropriazione del capitale finanziario, ma anche di separazione di questa capacità di produrre delle moltitudini del comune, si apre una strada anche di una sorta di nichilismo del capitale, nel senso che la negazione delle proprie capacità di riprodursi, e quando dico capacità di riprodursi non parlo solamente della fame, parlo anche della possibilità di riprodursi intellettualmente, socialmente, comunemente, effettivamente producono una specie di circolo vizioso nell'accumulazione capitalistica. Non so se riesco a spiegarmi, ecco io vedo molto dentro anche la vicenda attuale, la crisi e la risposta in termini di politiche dell'austerità, questo problema. Cioè il problema è che l'accumulazione capitalistica rischia di porre le basi anche del proprio, questo sarebbe un pochino troppo dire che sta, diciamo così, un po' deterministicamente diventando il becchino di se stessa, ma è questa secondo me la contraddizione centrale che si sta dando. In questo senso, sempre se non ho capito male l'introduzione, il discorso di Paolo, in realtà io vedo un ritorno del problema della distribuzione e non una sua assenza, laddove il vero problema non riguarda semplicemente gli strumenti di lavoro che effettivamente sono difficilmente separabili dalla forza lavoro, ma altro problema invece è il problema della riproduzione di questi strumenti e della potenza stessa di agire. Altri interventi? Passo la parola a Paolo. Sulle passioni della singolarità, diciamo, io ho solo un punto su cui vorrei battere, credo peraltro anche largamente condiviso, c'è tutta una tradizione del pensiero critico del Novecento che mette capo soprattutto alla parola alienazione, qualsiasi cosa adesso vi evochi nella testa quella parola, che concepisce i modi di essere dell'individuo determinati soprattutto dalla lontananza nei confronti di ciò che conta, dalla separazione nei confronti delle forze produttive, dell'intelligenza, dei modi in cui ci si può autorealizzare. Io ho come l'impressione, e da lì deriva l'individuo proprietario o derivano le strozzature, le distorsioni, le infelicità del rapporto tra comune e singolare, credo che sia vero proprio il contrario, cioè che quello con cui abbiamo a che fare è una sorta di vicinanza simbiotica della vita del singolo con quello che ora in maniera abbreviata chiamiamo il comune, o se volete con le forze produttive, con l'intelligenza, il sapere, le caratteristiche della comunicazione linguistica, e questa massima prossimità fra esperienza di ciascuno ed esperienza del comune che laddove non prende la forma appunto di un etos, dove non trova una propria connessione questa vicinanza diventa patogena. Ma in ogni caso si tratta di patologie nella vita quotidiana di dolori, passioni o arroganze o sopraffazioni, d'accordo naturalmente, il terzo libro dell'etica di Spinoza sulle passioni deve essere ogni volta ripensato, riscritto, per carità, ma diciamo queste tonalità emotive sono tonalità emotive o espansive quando va bene, nei momenti di felicità pubblica, di azione collettiva riuscita, sensata, eccetera, o come spesso accade, come comunque io cercavo rimettere in luce stasera con riferimento a Stirner e all'individuo proprietario, questa è la questione che mi sta a cuore, non si tratta di lontananza, alienazione, inarrivabilità, potenze che ci dominano, eccetera, ma al contrario, massima prossimità e potenze che riconosciamo in noi stessi, con le che non riusciamo, parliamo facile, non riusciamo ad amministrare, a cui non riusciamo a dare una forma. Questo era un punto e sono d'accordo con l'osservazione di Uelfo su carattere particolare della coppia potenzialità-attuazione, in cui l'elemento complementare e l'elemento positivo, anziché essere due cose, possono convivere, possono l'attuazione, per certi versi non c'è un atto che non sia anche una negazione della potenza e per altri versi naturalmente ne è il complementare, che quindi viene in una situazione così anche teoricamente più complessa di quella che io per semplicità proponevo all'inizio, e parlando di comune e parlando di moltitudine. Il problema che poneva Alberto adesso, credo che sia un problema politicamente, di analisi sociale serio e fondato, talmente serio e fondato che quasi mi tiro fuori da esso, tanto è evidentemente ai miei occhi almeno giusto. Vorrei solo dire l'accezione molto specifica in cui l'elemento della divisione distribuzione conosce una difficoltà a funzionare come al solito ed era solamente riferito al fatto che dopo un ciclo appropriativo, sempre in qualche misura extragiuridico, si instaurano invece anche giuridicamente e comunque come organizzazione sociale, una divisione dell'appropriato, di ciò che si è appropriato in quote proprietarie, possono essere di mezzi di produzione, di terra incolta. Quando, e questo però lo riconoscevi tu, quando ne va di un'appropriazione dell'intelligenza collettiva o della cooperazione sociale, le forme di divisione di questo che è indivisibile, di intrinsecamente comune, non è che non ci sono, anzi sappiamo che la scala, diciamo così, delle ingiustizie, delle sperequazioni, delle sopraffazioni cresce anche, ma non si solidificano in un modello distributivo del tipo prese queste terre date a questi latifondisti o a questi capitalisti agricoli, per cui appunto esiste la forma mobile, che non vuol dire naturalmente non efficace, ma che so del copyright, la forma del copyright presenta spesso un massimo di arbitro e anche una notevole mobilità, ecco io parlavo di distribuzione, nel senso di distribuzione fra imprenditori capitalisti di quanto si è venuto appropriando, in una forma stabile, in una forma socialmente duratura, questo mi sembra escluso rispetto al modello classico, però su questo Alberto mi pare che concordava largamente, l'aspetto invece centrale della distribuzione per quello che riguarda la riproduzione della vita, la riproduzione della forza lavoro è assolutamente centrale e sono d'accordo con lui, quindi è solamente quello che ho detto solo per precisare il punto in cui l'elemento della distribuzione e della sua fissazione giuridica viene meno. Per il resto sono assolutamente d'accordo che invocare le enclosures come punto di riferimento è sbagliato perché la questione lì non è una gestione delle cose ma l'istaurazione di un rapporto sociale e quindi veramente decisivo è quell'aspetto della spogliazione che dà luogo poi alla dinamica della vendita di quella merce speciale fatta puramente di attitudini e potenzialità che è la forza lavoro e via dicendo. Quindi valga questa solo come circoscrizione e precisazione. Grazie. Io vorrei provare a concentrarmi anche io sulle categorie di appropriazione, distribuzione e produzione facendo riferimento in particolare alla tradizione in particolare novecentesca del welfare state che si è concentrata in particolare sul progetto della redistribuzione delle ricchezze. Ora in questa categoria di redistribuzione delle ricchezze anziché si definisce il fatto per cui si riconosce una determinata componente produttiva attiva che trasferisce in un secondo momento una certa parte ad una parte considerata invece inattiva, incapace di entrare nel sistema produttivo attivo. Questo diciamo è l'impianto che ha definito la società salariale classicamente intesa della fordista. Ora io credo che nel dibattito anche attuale politico che ruota attorno alla questione per esempio del reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza fa riferimento ad un particolare tipo di appropriazione che è quello del codice linguistico, della relazione sociale su cui si innervano i processi di estrazione di euro. In questo campo qua il reddito di cittadinanza non è più considerabile come un processo di redistribuzione delle ricchezze ma deve essere considerato come un processo inerente alla produzione stessa delle ricchezze. Cioè lì dove viene viene riconosciuto immediatamente il contesto sociale, collettivo, linguistico, cooperativo comune della appropriazione stessa. In altre parole quello che vorrei porre io è attraverso queste tre categorie è come possibile ripensare le categorie di produzione, appropriazione e distribuzione come una critica della violenza oggi, lì dove violenza sta per ridefinire i nuovi terreni dello sfruttamento oggi nel quotidiano. Allora io voglio porre soltanto una questione che nasce sostanzialmente da una mia incompetenza, nel senso che quando come collettivo LUM abbiamo articolato le varie giornate, a un certo punto è uscita fuori è emersa la questione proprietà e morale e io per almeno un paio di giorni mi sono effettivamente chiesta proprio quale fosse la questione, nel senso ovviamente comprendevo il tema ma non riuscivo a cogliere l'increspatura, il problema che oltre alle cose più classiche che mi potevano venire in mente, non avendo neanche dei punti di riferimento filosofici che mi potessero aiutare. In questa interrogazione in realtà il problema mi si poneva in una veste che forse non è, che in realtà forse c'entra anche molto poco, però voglio comunque porla così come interrogativo. Cioè a me veniva in mente tutti quei passaggi di autori a noi vicini come Marazzi e altri in cui identificavano nel nuovo modo di produzione capitalistica, post-fordista eccetera, la produzione di valore nella messa a valore appunto di alcuni elementi della soggettività e della relazione, tra cui anche l'etica, i codici, le regole, il modo di giudicare, un certo modo di pensare, di valutare la vita. E quindi mi si poneva il problema in questi termini e mi chiedevo se oltre che essere la declinazione di un certo rapporto proprietario, l'etica, l'ethos, non possa essere considerato, rovesciando un po' il problema, come oggetto del rapporto proprietario e quindi oggetto delle dinamiche di appropriazione e quindi anche di quelli di riappropriazione. Quindi in un certo senso se c'è un modo, io non so minimamente quale, di considerare l'ethos anche come terreno stesso di lotta sostanzialmente. Quindi volevo semplicemente dire questo. Beh, insomma, secondo me, e io avevo in mente all'inizio, a settembre, quando ne parlamo, un tema di questo genere, c'è tutta una gamma di sentimenti morali che è connesso a quello che è la proprietà che potevano essere ricostruiti a grandi linee sotto un profilo storico, sociologico, filosofico, il rispetto, l'amor proprio, per dire quelli più miti, naturalmente ce ne sono di più feroci. E poi interrogarci invece su come si esprimevano, su quali erano invece le... anche con i loro chiaroscuri e le loro incertezze, quali erano le articolazioni etiche in una situazione in cui prevale la dimensione comune del comune. E quindi mostrare come... cioè cercare, indicare, sperimentare insieme delle determinazioni. Nella convinzione che... e in questo secondo me tu hai molto ragione nelle ultime cose che hai detto, che se appena è vero che nella produzione contemporanea entra il linguaggio, la capacità di relazioni con il prossimo, le cognizioni, gli affetti, è abbastanza normale che non si dia alcuna idea di conflitto, di trasformazione radicale dell'esistente che non prenda la dimensione della buona vita, insomma di un'immagine della buona vita, quindi che poi è l'antico modo di parlare dell'ethos, non tanto come dover essere morale e cose di questo genere. Quindi da Genova in poi a me sembra abbastanza normale cogliere delle... che si tratti dell'indignazione di quelli di Puerta del Sol o prendere un po' sul serio. Sul serio voglio dire non solo come adesso sono, che so, indignati o solidali oppure vogliono... e poi invece faranno più sul serio scendendo su una dimensione più propriamente rivendicativa o politica. No, quella è la dimensione più seria e più materialisticamente fondata di lotte all'interno di questo modo di produzione. Cioè, peraltro se no non avrebbe senso tutti quegli slogan fin troppe volte ripetute la vita messa al lavoro, va bene, ma allora se vi è protesta e conflitto quando la vita è messa al lavoro mi pare che è difficile che poi si possa esprimere essenzialmente nel fatto di lavorare, cosa pure ovviamente sacrosanta, dieci ore meno al call center. Per lavorare dieci ore meno al call center in qualche modo occorre che emerga un insieme, una costellazione di sentimenti, insomma come posso dire, di una costellazione etica. Cioè, poche volte secondo me la dimensione etica ha avuto una materialità così determinata e può essere anche l'unica altra faccia e l'unica espressione del radicale rifiuto di un modo di produzione che si nutre di alcuni aspetti decisivi di fondo del vivente umano. Per quello che diceva Paolo sono d'accordo sul suo punto essenziale, l'ha detto, brevemente lo riprendo e mostro il mio senso, cioè che in realtà la richiesta del reddito di cittadinanza ha sempre avuto e ha più che mai come sua motivazione il fatto che vi è, come posso dire, di pagare la forza produttiva del comune, della relazione, della cooperazione che è sempre una cooperazione più larga di quella strettamente iscritta in fabbrico e in ufficio. Questo punto, secondo me, è radicalmente giusto, per cui non si tratta più in alcun modo di un rilancio o di un ricordo nostalgico del tempo del welfare. Sotto questo profilo vi è proprio una rottura rispetto a quella ver cura degli esclusi. Qui in qualche modo è una richiesta di quelli che sono massimamente inclusi. Quindi sotto questo profilo il problema del reddito di cittadinanza si iscrive oltre la stagione del chinesismo e la stagione di una sinistra che poteva riconoscersi, come già la sinistra peraltro alla fine dell'Ottocento, nella richiesta di redistribuzione del reddito. Ho come l'impressione che una delle tante forze avverse al reddito di cittadinanza sia anche il modo in cui si è pensati a se stessi come un bene economico, come una proprietà da investire e da far fruttare. La mia impressione è che laddove si è disseminata e ha preso piede la figura dell'individuo proprietario della vita come bene di investimento, lì sia stata scacciata dalla porta e anche dalla finestra la prospettiva del reddito di cittadinanza. In questo caso non scacciata dalle ovvie forze dello Stato o del capitalismo internazionale ma scacciate dall'interno della soggettività. Cioè c'è stata come un'ostruzione in quelle che sulla scia di Foucault vengono chiamati i processi di soggettivazione. L'autovalorizzazione del Sè, ecco, questo grande tema dell'autovalorizzazione del Sè sfiora ma fa prendere anche una direzione contraria alla richiesta del reddito di cittadinanza nonché a una trasparente connessione fra quel che è comune e quel che è singolare. Questo tema, capite quanto è vicino anche alla sensibilità dei movimenti sociali dal 77 in poi, l'autovalorizzazione. Ho capito, ma ha preso da un certo punto in poi invece una piega che andava fuori, che sarebbe poco male, ma contro l'azione collettiva. Ed è lì che, anziché andare a trovare Schmidt in cella, è Stirner che viene a trovare noi, noi dico come movimento, come insieme di esperienze di movimento. E' l'autovalorizzazione dell'Io del Sè, una specie di ritornello anche notevolmente articolato come è pensato da quest'autore, questo torna a proposto, non per una curiosità. Allora, con Stirner che ci viene a trovare in cella, se non ci si... no, in cella no, scusate. Ci lasciamo, ringrazio ancora Paolo e grazie a tutti.